Si è parlato di fattibilità della stazione Medio Etruria nell'incontro che si è svolto nel pomeriggio nella sede del Ministero delle Infrastrutture alla presenza dei due presidenti di Toscana e Umbria Gianni e Tesei, oltre che dei tecnici del Ministero dei Trasporti e dei Ferrovia dello Stato. Alla presenza del Ministro Matteo Salvini l'ordine del giorno esaminava la fattibilità dei collegamenti ferroviari nell'area tra le due regioni. Il tavolo taccrico con esperti, i locali tornano a riunirsi il prossimo martedì 30 maggio. Una cosa positiva tuttavia va ribadita, finalmente inizia la discussione, quella seria dopo tante polemiche più o meno a distanza e sopra il tavolo le carte potranno dimostrare che la tesi che propone Arezzo non è certo figlia solo del campanilismo e della improvvisazione. Una tesi che è stata rilanciata di recente dal presidente Gianni che appoggia in toto quello che poi è stato portato avanti in questi anni dal Comitato Sava. La soluzione di Rigutino sembra essere quella che all'esame dei costi essere la migliore rispetto alle proposte di Creti e delle Treberte.